Noi ci siamo, eh? Ci stiamo organizzando. Anche voi maestre siete diventate delle brave equilibristi e voi maestri sì sì, insomma la scuola e il teatro credo che siano i settori più in difficoltà, ma noi ci siamo, abbiamo creato un'app Segni in Onda, trovate le informazioni sul sito, così potete seguire il festival, se non riuscite a venire a Mantova, anche dalle classi o dalle classi e dalle case, insomma a scuola, a casa, sui banchi, sotto i banchi, con la mascherina, senza la mascherina, se avete bisogno di qualsiasi cosa, noi di Inventiva ne abbiamo tanta e siamo pronti a darvi una mano. Mi raccomando, vi aspettiamo, lo facciamo per voi, per i bambini, per i ragazzi, per le bambine, per le ragazze, perché è importante continuare a fare teatro e cultura. Vi aspettiamo!